Siamo messi bene, Sesca ha giocato un'ottima partita l'ultima volta, poi mi avevi chiesto di Thiago, si Thiago è pronto per la Champions, ha giocato una partita molto completa l'ultima volta, sapete vuole giocare a tutti i costi, penso che se la possano giocare tutti, si. La Champions è molto diversa, dalla Liga non ha niente a che spartire, della Liga ne parleremo venerdì in conferenza stampa, ora pensiamo solo alla Champions, in questa competizione non si può sbagliare davvero niente, basta un passo falso e le cose diventano molto più difficili, lo sappiamo bene per l'esperienza dagli anni scorsi. Non saprei proprio, è vero che se vieni da una serie di brutte prestazioni la tensione è altissima, ti sembra di dover spaccare i monti, invece quando le cose vanno bene magari vinci facile, non si sa mai cosa sia meglio, i risultati certo fanno morale, stai meglio di sicuro, ti viene tutto più facile. Una cosa è certa, ogni partita fa storia a parte, nel calcio ci vuole poco per mettere male una partita, basta un'espulsione, prendere un gol nei primi minuti e tutto va alla rovescia, insomma speriamo che domani sera tutto vada davvero al meglio. Un gol rapido, l'equipo contrario, non lo so, però di tutte le mani preferisco arrivare a questo partito con buoni risultati, sì.